Il servizio sanitario nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo, dovremmo esserne gelosi, dovremmo capire il grande valore che ha questo servizio sanitario nazionale per tutti, per tutti i cittadini, tutti da noi possono curarsi, questo non succede nelle altre parti del mondo, ci siamo ispirati agli inglesi, a me ha molto colpito che gli inglesi nel 48 quando hanno istituito un servizio sanitario nazionale hanno appiccicato dei cartelli al muro per dire alla gente guardate il servizio sanitario nazionale toglierà a voi la preoccupazione dei soldi quando vi ammalerete, è una cosa straordinaria, pensate da noi è successo poco fa nel mio ospedale, si fa un trapianto di tre organi, di fegato, di pancreas e di rene a una persona con il diabete, questo va a casa, non ha pagato una lira, certo è una cosa difficile, la probabilità di successo era poca ma c'era, l'abbiamo fatto e è andato tutto bene e questo succede dappertutto in Italia o quasi dappertutto, certo c'è una grande differenza tra regione e regione che dobbiamo colmare, mancano i medici, è stato affrontato questo problema di 60.000 medici che mancano, tenete conto che abbiamo dei giovani bravissimi, niente a che vedere con quelli di 10 o di 20 anni fa, si tratta di sostituire i medici che vanno via con giovani entusiasti che siano dedicati solo al servizio sanitario nazionale e di fare in modo che anche i medici di famiglia dipendano dal servizio sanitario nazionale, allora davvero potremmo avere una continuità di cura quando il paziente viene dimesso dall'ospedale, viene preso in cura dal medico di medicina generale che lavora con il medico specialista che va a trovare il suo malato, che si porta il suo malato a casa, potrebbe diventare davvero il nostro, il migliore servizio sanitario nazionale al mondo perché i presupposti ci sono.